Salve a tutti, sono VodkaForzaYansZ. Oggi vi mostro questo breve video dove potete ammirare il vecchio sito Dragon Ball Arena, non più aggiornato da circa il 2008 e oggi non più disponibile, anche se fino a qualche anno fa era visibile. Ad esempio, io l'ho visitato nel 2015 per vedere dei vecchi fumetti fan made di Dragon Ball. Era molto utile per chi come me, negli anni 90 e inizio anni 2000, la cercava immagini su Dragon Ball e altri anime, oltre che gli episodi, le fan art, fan fictions, come già detto prima, i fumetti, le immagini umoristiche, gli emulatori e i videogiochi. Inoltre, il sito, realizzato in HTML, era disponibile in italiano e in inglese. Unici difetti, nomi degli episodi e degli oabi tradotti e riadattati male, e limiti grattici pixelosi dei suoi tempi.